Scandalo d'amore, Shakira contro Clara Chiamarti, la verità svelata. Ciao ragazzi, oggi voglio parlarvi di un grande scoop che ha scosso il mondo della musica e dello spettacolo. Domenica 24 marzo, la fantastica Shakira sarà ospite a Verissimo per presentare il suo nuovo album Las Mujeres e Anolo Oran in uscita il 22 marzo. Questo album contiene il famoso brano BZRP Music Session Ball 53 che ha fatto impazzire le piattaforme musicali e i social per le frecciatine contro l'ex marito Gerard Pique, la sua nuova fidanzata Clara Chiamarti. Ma chi è Clara Chiamarti e cosa ha detto Shakira sul suo conto? Clara è una modella di 23 anni che vive a Barcellona. Si dice che la sua relazione con il noto calciatore Gerard Pique si è iniziata mesi prima della separazione tra lui e Shakira, segretamente. Solo in seguito la cantante avrebbe scoperto il tradimento del marito e per sfogarsi ha pubblicato il brano BZRP Music Session Ball 53 in cui ha espresso chiaramente il suo pensiero su Clara Chiamarti. Dopo lo scandalo e la canzone di Shakira, Clara Chiamarti, insieme a Pique, ha deciso di non rilasciare dichiarazioni e di vivere la loro relazione alla luce del sole. Si sono mostrati vicini e sorridenti davanti ai paparazzi e recentemente hanno traslocato nella casa dove Pique e Shakira vissero i primi anni della loro storia d'amore e ampliarono la famiglia con l'arrivo del piccolo Milan. Nonostante le critiche, la relazione tra il calciatore e Clara Chiava a gonfie vele. Recentemente, Pique ha rivelato durante uno streaming chiamato Chap Chap che va nei negozi con la sua ragazza e lei gli compra gli abiti, definendosi la sua marionetta. Insomma, sembra che i due stiano vivendo un momento di piena felicità insieme. Che ne pensate di questa storia? Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo triangolo amoroso a tinte forti. A presto con nuove news. Iscriviti al canale, metti un like e attiva la campanella.